Il Giovedì Santo del Vescovo di Salerno inizia tra le mura del carcere di Salerno dove Monsignore Andrea Bellandi si è recato questa mattina per presiedere la Santa Messa e nel corso della celebrazione ha effettuato anche la lavanda dei piedi ai detenuti e al personale della Polizia Penitenziaria. Su Eccellenza ha donato i detenuti anche delle pastiere in collaborazione con l'ufficio della pastorale carceraria presieduta dal cappellano della casa circondariale Don Rosario Petrone. La liturgia della settimana santa secondo me è la liturgia più ricca di simboli e i simboli dal greco si un ballo sono quelli che che uniscono e anche questo questo simbolo della pastiera non ha fatto altro che unire ancora di più la comunità esterna con la comunità interna il dentro e il fuori in questo periodo molto molto particolare molto sentito perché poi il periodo delle feste è molto sentito appunto dai detenuti come lei diceva è molto sentito soprattutto per la lontananza dai propri affetti. Diciamo che è il messaggio che ogni uomo ogni donna vuol sentirsi dire vuol sentirsi pronunciare verso verso se stessi perché è il messaggio dell'amore del perdono della misericordia che non c'è nulla che possa essere una barriera troppo troppo direi forte per impedire di cambiare e di essere rimessi nelle condizioni per vivere. Siamo ormai nella settimana santa ed ieri la notizia che bisognerà indossare la mascherina anche per le processioni. Sì direi che è una precauzione intelligente ragionevole perché ancora il virus gira e credo che insomma non sia un gran disagio ecco con un'attenzione da parte di tutti forse ci abbiamo a un'estate più tranquilla. C'è un messaggio in particolare che vuole inviare a tutti per la Pasqua? di pregare la Madonna Regina della Pace perché abbiamo bisogno di pace e bisogna fare tutto il possibile a partire dalla preghiera per fra virgolette costringere i potenti ad avere a cuore il bene di tutte le persone soprattutto i più deboli.